Come in quella famosa barzelletta abbiamo tre device Un Galaxy Z Fold 2 Un Galaxy Z Flip 3 E un Galaxy Z Fold 4 E quindi cos'hanno in comune questi tre device? Sono tutti e tre Samsung? Sì, però non è quello Sono tutti e tre pieghevoli? Sì, ci siamo quasi fuochino E quindi hanno tutti e tre la piega Esatto Devo ammetterlo, non mi ha mai spaventato la questione della piega Non a caso ho acquistato subito il Fold 1 Ho provato il 2, il Flip 3 Adesso il Fold 4 L'ho sempre vista come una questione più che altro estetica Un po' come è successo per il notch Che io ancora continuo a sostenere sia veramente orrendo Soprattutto se messo in un corpo di un device piccolo Come può essere uno smartphone e quindi l'iPhone E invece magari un po' meno brutto Per quanto riguarda per esempio il tablet Tab S8 Ultra di Samsung Però posso capire che è una questione che divide Perché è una cosa nuova Perché magari la si vede solo da un amico o da un parente In un centro commerciale lo si prova 30 secondi o minuto E subito si dice Ah che brutta, guarda come si vede Il riflesso è scomodo Lo sento sotto il dito Ma come si fa? Come se non si fa? Ebbene io ho cercato di capire un attimino le motivazioni di chi dice questa cosa Però voglio anche portarvi la mia esperienza Comunque ho provato 4 device con una piega Anche con pieghe diverse Nel senso che il flip è diciamo più verticale Quindi si tende a usare a sentirla di più Perché si scorre verticalmente una piega orizzontale Il contrario per quanto riguarda i fold Non ho potuto ancora provare ovviamente i vari opto Xiaomi Che non sono arrivati Che promettono delle... Anzi hanno mantenuto Hanno messo, implementato delle pieghe più contenute A quantomeno a livello visivo Però insomma diciamo che in questo momento I prodotti Samsung sono quelli più diffusi E secondo me sono quelli più interessanti Per capire se effettivamente può essere una barriera per l'acquisto Oppure sono tante paranoie Tante supposizioni Tanti problemi Che la maggior parte delle persone si creano Senza avere un resoconto completo Di quello che è veramente l'esperienza con un foldable Partiamo subito Non sono qui per fare revisionista o negazionista La piega c'è È inutile dire che non c'è C'è Però quello che voglio far capire io È l'impatto che questa piega dà nella vita di tutti i giorni Nell'utilizzo quotidiano del telefono Che secondo me è veramente minimo Mentre sto facendo questa piccola disquisizione Di accompagnamento alle immagini che vedrete Nel frattempo sto usando anche il telefono Lo Z Fold 4 Che è il mio daily device Per cercare di spiegarvi non solo Quello che vedete nelle immagini Ma anche proprio sensazione Cosa voglio dire Che nell'utilizzo quotidiano Sparisce? Beh come vedete sicuramente Da certa angolazione La piega c'è Si vede Da quell'effetto quasi di ombra No? Perché ovviamente fa un po' di incavo Nel mezzo dello schermo E quello diciamo È quello che Dà un po' più di Noia visivamente Soprattutto nelle immagini chiare Si vede un po' meno nelle immagini scure Però dobbiamo tenere conto Che la stragrande maggior parte Del tempo Noi abbiamo il telefono Quasi frontale Di fronte a noi Diciamo In posizione parallela Rispetto ai nostri occhi E in quella situazione È come se non ci fosse Questa piega E teniamo conto Che stiamo parlando Di una piega di Samsung Quindi sappiamo che non è quella Dal punto di vista Della visibilità migliore Secondo me Come ingegnerizzazione È comunque superiore Perché abbiamo La possibilità di mettere A tutte le angolazioni Abbiamo la resistenza Alla polvere All'acqua E comunque È in vendita Da più tempo E a parte Lo scandalo iniziale Del Fold 1 Che però Era relativo Diciamo più che altro A pellicola E non alla cerniera in sé Mi pare che Sia al momento La soluzione ancora Migliore da questo punto di vista Ma sicuramente È quella più visibile Ancora non è Quasi piatta Come ha fatto vedere I vari Oppo Xiaomi Anche recentemente Motorola Con il nuovo Razor Quindi ricevamo Nell'utilizzo di tutti i giorni Siamo molto tranquilli E sicuramente Se vi impuntate Su quella piega e mezzo Nulla Ci sarà Che vi impedirà Di dire Ma io la vedo Ma io la vedo Però come tante cose Che abbiamo Nella nostra vita quotidiana Chissà Quanti segni nel muro Avete a casa vostra Chissà quel rumorino Che avete in automobile Alla fine Giorno Dopo giorno Dopo giorno Vi accorgete L'occhio non vede più Quello sporco sul muro L'orecchio Non sente più Quello rumorino dell'auto Vi abituate Così è quello che accade Anche per Usando un foldable Di nuova generazione Capisco chi potrebbe dire Ma spendo certe cifre E non devo arrivare A dover Dimenticare Un tra virgolette Difetto visivo Se c'è Però in questo momento La tecnologia Questo offre Quindi se vogliamo Avere un foldable Questo è quello Qui andiamo incontro E secondo me Non è una grave rinuncia Quando guardo Continuti multimediali Veramente Non me ne accorgo Io ho anche Un tab s8 Che uso molto Per vedere appunto Video Magari vado sui social Ecco Non è che La mia mente Dice Ah cavolo Sono su uno schermo piatto Guarda come si vede bene Rispetto a quando lo guarda sul telefono Che invece ce la piega Quindi l'impatto visivo Secondo me È una scusa Per chi dice Che non vuole un foldable Evidentemente Non vuole un foldable Come chi non vuole Un iPhone Perché non vuole IOS All notch Come chi non vuole Un Samsung Perché non vuole La One EY Credo che Da un lato Deve essere molto chiaro Il fatto che Se uno vuole Un foldable In questo momento Deve andare incontro A questa limitazione Chi preferisce Per esempio Un foldable Che ha meno limitazione visiva Come appunto dicevamo Prima Xiaomi Oppo Motorola È liberissimo Di scegliere di Sappiamo ovviamente Che ha Tutto Un altro tipo Di rinunce Non vuoi la resistenza All'acqua Alla polvere Va bene Però vuoi che si veda meno Va bene Però non si può dire Che la piega di Samsung È peggiore O dà fastidio Insomma È sempre una questione Di cosa ci vuoi fare Col telefono Dal punto di vista Invece Tattile Che è l'altra grande Critica L'altra grande situazione Che usiamo ovviamente Display con le nostre dita Beh è ovvio che Scorrendo in Orizzontale Diciamo Aprendo il telefono Da portrait E aprendolo E quindi poi Scorrendo Le applicazioni Di solito In verticale Beh si accorgerà Molto meno Perché andando Il dito in giù Quindi nei feed Facebook Twitter Instagram TikTok YouTube Il dito Il dito solo Raramente Quando incontrerà La piega in mezzo Lo sentirà Ma invece Lo scorrimento Verticale Praticamente Farà sì Che non Incocerete mai Nella piega È una cosa Che c'è Non si può dire Di no Appunto Perché è un incavo Allo stesso tempo Anche questo qui Veramente Non ci farete caso Dopo X tempo I primi giorni Soprattutto se il primo foldable Ovvio lo noterete Ah di qui Di là Di su Di giù Poi veramente Col tempo Vi passerà Per me È anche Un piccolo Scaccia pensieri Sono quelle cose Come la fotocamera Dietro che sporge Magari In cui magari Trovate il dito E vi piacerà Anche passare sopra Perché Vi dà quella sensazione Tattile Quando siete lì Magari Immersi nei vostri pensieri E quello è Come dire Un aspetto secondario Che a me Non dispiace Per il resto Onestamente C'è veramente Poco da dire Perché Non impatta sui colori Sì minimamente Ma qui O stiamo parlando Veramente Di dettagli tecnici Abbiamo comunque La possibilità Di usare Lo schermo esterno Per tante cose Oggi come oggi Se si sceglie Un foldable Bisogna Avere questo compromesso Secondo me Non si può dire Io non lo prendo Perché non mi piace La piega Non è qualcosa Su cui si può attaccare Chi ha scelto Un foldable Perché È chiaro Che se tu mi proponi Esempio Non lo so Banale Un telefono Che ha 3 giga di ram Un processore del 2016 Con cornici enormi E una fotocamera 3 megapixel Me lo vendi A 600 euro Io lo compro È chiaro a cui tu mi puoi dire Ma cosa hai fatto In questo caso Secondo me La scelta di prendere un fold Non è oggettivamente criticabile È soggettivamente criticabile Ma come io Ho deciso Di venire incontro A uno spessore Un peso molto grande E una piega Che certe volte Può essere visibile O sentirsi al tatto Io ti posso dire Perché tu hai preso Un telefono Che per esempio Ha un formato strano Magari molto alto E stretto Come sono i Sony Perché tu hai preso Un telefono Che è molto chiuso E non dialoga con altri Come può essere Il telefono Apple Con iOS Perché tu hai preso Uno smartphone Di un'altra marca Che magari Rilascia aggiornamenti Dopo 4 mesi Ognuno fa Le sue scelte Concludo questo Mini ragionamento Sulla piega Tirando due fila La fila numero uno è Se state seriamente Valutando Di acquistare un foldable Ma siete spaventati Dalla piega Procedete Se invece State usando con soddisfazione Un telefono classico E vi attira solo la novità Ma non siete ancora convinti Del tutto Beh aspettate Ci sono altre valutazioni da fare Tra cui il prezzo Lo spessore Cose di cui ho parlato Tra l'altro Anche nella recessione del fold E dall'altro canto Vorrei parlare Tutti quelli che Se la ridono Criticano Sono sarcastici Riguardo chi ha preso Un telefono con la piega Dicendo Ha 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 Ma c'è la piega È bruttissimo Non ne prenderò mai uno Da questo punto di vista Mi sembra veramente Un'esagerazione E solo una critica Pretestuosa Per cercare di fare Nervosire l'acquirente Cosa che Personalmente Non mi tocca Perché Come ho già detto Altre volte Io in questo momento Non riuscirei mai E poi mai A tornare Ad usare Un telefono tradizionale Bene Siamo arrivati Alla fine Di questa panoramica In cui ho cercato Di farvi capire Pregi e difetti Di questa famigerata piega Certo Bisogna fare attenzione A una cosa È ovvio Che questi dispositivi Sono più delicati Della media E quindi Dovete sapere Che ci vorrà Qualche attenzione In più La famosa unghia Che non va usata Nel display interno Bisogna magari Stare attenti Al mare O Quando c'è la sabbia L'acqua Magari Quando piove Insomma Hanno anche Soprattutto quelli Di nuova generazione La resistenza All'acqua Però Soprattutto la polvere Insomma Bisogna Avere un minimo Di accortezza in più Anche perché Sono più ingombranti Quindi tasca Averà tante volte Voglia di toglierlo Dalla tasca E appoggiarlo Attenzione a non fare Troppa Violenza Insomma Ne appoggiarlo Perché è molto pesante E rischiate di incrinare Le camere Non spaventatevi della piega Non vi darà un problema Di quelli del tipo Oddio L'ho aperto Vedo la piega Lo voglio ridare indietro Dategli qualche giorno Di uso E vedete che Scomparirà davanti I vostri occhi E abbiate qualche Cautela in più Hanno sicuramente Un grado di Rottura maggiore E ci sono dei casi Inutili negarlo Lo si vede sul web Però non sono neanche Quel tipo di device Che uno dice Lo compro Dopo due giorni Sicuramente è rotto E questa era Ed è tuttora La mia esperienza Con i pieghevoli Ovviamente di Samsung Perché sono quelli Che si trovano Più facilmente in Italia A parte i Motorola Gli altri Magari arriveranno Col tempo Per cercare di spiegare A chi ha Intenzione Di acquistarne uno Di provarne uno I dubbi E rispondere Magari Con un minimo Di dettaglio In più A quello Che mi rendo conto Essere Una paura Quasi Un'ansia Per un oggetto Tecnologico nuovo Che è molto affascinante Che se comprato E usato Nella giusta maniera Vi darà tantissimo Grazie a tutti